L'allestimento quest'anno segue un filo conduttore che è quello della storia, racconta in qualche maniera, inizia con la tradizione storica dell'artigianato per poi passare al contemporaneo con gusto tradizionale e invece l'attualità dello stile che si incontra nelle case moderne. In questo con Pamela abbiamo deciso di ragionare su delle ambientazioni più che su degli spazi definiti per materiale e in questa maniera ci siamo divertiti a mettere insieme elementi che potessero richiamare dei gusti particolari e entrare in stretto contatto con le abitazioni attuali che sono a disposizione delle persone. Vai Pamela, vuoi dire? Sì, l'obiettivo principale è stato sicuramente quello di mostrare la storia, la tradizione dell'artigianato ma far capire come questo artigianato possa rinnovarsi facendoli in maniera intelligente, ossia partendo da una base che è quella del sapere degli antichi e seguire il normale flusso dell'innovazione. Innovazione è un altro termine fondamentale in questa mostra perché quest'anno, anche a seguito delle ultime situazioni dovute al Covid-19, ci siamo trovati nelle condizioni di dover ripensare alla mostra per cercare un modo alternativo per far sì che il visitatore finale potesse fruire la mostra e quindi ci sarà la possibilità per la prima volta di visitare la mostra dell'artigianato sia fisicamente con l'apertura al pubblico dal 1 al 23 di agosto ma anche virtualmente tramite un virtual tour che permetterà all'utente di percorrere le varie stanze della mostra, di osservare gli oggetti che sono esposti e si è interessato anche di acquistarli collegandosi ad un sito e-commerce dedicato. Quindi diciamo che l'innovazione è stata anche un'arma vincente in questo caso.